Stasera è incassata un importante successo all'Ischia Film Festival. Siete soddisfatti? Ve lo aspettavate? Beh, ce l'aspettavamo. Noi nel film ci abbiamo sempre creduto, quindi siamo molto felici. È il secondo anno che vinciamo come distribuzione miglior regia, quindi questo festival evidentemente porta bene. Allora sì, molto felice. Te lo aspettavi? Sei felice? Una bella soddisfazione? No, è stata una grande sorpresa per me quando mi trovano, perché è un film molto piccolo che ha solo tre mesi di distribuzione. Questo è il nostro premiere qui in Italia e, beh, non me lo aspettavo affatto perché è anche un piccolo cortometraggio ed è in distribuzione da soltanto tre mesi. Qui in Italia in effetti è una prima per l'Italia, per cui sono stato sorpreso e felice. Il film è molto incentrato anche sul paesaggio, sulla location, per cui credo che sia stato un elemento apprezzato e valorizzato anche dalla giuria. Vincitore all'Iskia Film Festival, sei felice di questo importante riconoscimento? Te lo aspettavi? Sì, è davvero un premio importante. Io sono il direttore della fotografia di questo documentario e per noi è davvero molto importante, molto molto bello essere qui presenti oggi. Naturalmente per noi documentaristi è particolarmente importante il fatto che questo festival si concentri, è uno dei pochi festival al mondo, che si concentri sulle location, sui paesaggi e quindi per noi ha un valore in più. Felice di ottenere questo importante riconoscimento nel luogo che poi ha fatto da Cornice alla tua opera? Direi di sì, perché il luogo è fantastico, veramente non ci sono parole. L'hanno detto già tutti, ma comunque veramente abbiamo visto ieri dei tramonti, un tramonto da qui su, con tutte le barche, tutte le casette illuminate, veramente fantastica come location. E quindi sono orgoglioso perché voglio dire, girato a dischia, premiato a dischia, che cosa si può chiedere di più. Veramente una bella soddisfazione. Speriamo che sarà il primo di tanti altri riconoscimenti perché ci siamo impegnati veramente per ottenere il massimo, anche pur avendo tanti mezzi. Lo porterete in giro adesso? Cioè non resta dischia? No, assolutamente. Non abbiamo ancora avuto un tempo di inviarlo, l'abbiamo finito veramente. Qualche giorno fa il mix, per cui ora, insomma, quando torno a casa, incominciamo un po' a vedere quale festival inviarlo. Però sicuramente noi vogliamo portare proprio Ischia nel mondo. Infatti lo invieremo in un festival in tutto il mondo, con la speranza che venga visto da più persone possibili. Poi credo che faremo sicuramente un'altra professione ad Ischia, perché ieri c'è stato veramente un grosso successo. Alcune persone non sono potute entrare e mi scuso di questo, come ha fatto anche Fabio De Caro, non tutti quelli che volevano vedere il corto hanno potuto vederlo. Quindi sicuramente a breve organizzeremo un'altra proiezione e così tutti potranno vederlo. Il cratere di Ischia Film Festival per questa sedicesima edizione incassa un importante riconoscimento. Siete felici? Siete soddisfatti? Ma felici è dire poco, perché al premio si abbina anche una nostra grande passione per questo festival, per questa location incredibile e per l'esperienza incredibile che si vive venendo qui. Che vivere il cinema in un posto meraviglioso, incontrando tanti colleghi, amici, godendo veramente del cinema in tutte le sue forme, è fantastico. E quindi è un premio doppio, triplo, quadruplo. Lo aspettavate? No, 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 assolutamente non ce l'aspettavamo. Come dicello, noi siamo un po' innamorati di questo festival, diciamoci la verità. E tornare qui di nuovo, in questo luogo, vincere il primo premio, insomma, no, non ce l'aspettavamo proprio, ma zero proprio, ma niente, niente, niente. E' una soddisfazione grande, perché è un festival che noi conosciamo, conosciamo bene e che, questo davvero vorrei dirlo, che abbiamo visto proprio crescere e diventare grande, diventare più bello e diventare più pieno, no? Sai, di atmosfere, di emozioni. Quello è importante quando porti un film. E' una grande cosa per te che porti qualcosa qui, no? Qualcosa di tuo e portarlo in un luogo che è cresciuto e che cresce sempre di più. Insomma, è una cosa davvero bella. Al di là del premio, questa è stata la sorpresa più bella.